Ma secondo voi vi sembra normale che in Europa nessuno ve lo faccia notare? Oppure stanno soltanto aspettando che aderiamo al MES, ai SURE, al Recovery Fund e quando il nostro debito esploderà saremo schiacciati dalla tenaglia e ci porteranno via la casa? L'avete capito qual è il gioco che sta succedendo? E allora, Presidente Conte, se lei da avvocato degli italiani è diventato il commissario liquidatore del Paese, noi non saremo qui a fare gli spettatori di questo immondo spettacolo. Torni quando vorrà far esprimere il Parlamento e quando la sua maggioranza si prenderà la responsabilità di quello che sta facendo. Grazie, Presidente. Colleghi, colleghi Deputata Serracchiani, per favore Deputata Serracchiani 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 Grazie.